È nata così, racconto esattamente come è andata. Io avevo già fatto a tutto gag, facevo la battona easy, vabbè. In quell'occasione avevo conosciuto Arbore che mi ha detto dammi il telefono perché ti chiamo appena faccio una cosa importante. Allora dal 79 effettivamente io feci altre cose in mezzo, poi nacque questa occasione di Quelli della Notte. Lui mi chiamò un mese prima della trasmissione e mi disse guarda facciamo questa cosa di notte, secondo me è meglio, non ci vede nessuno, non corriamo rischi, vabbè. Dico vabbè, però non so ancora se ti faccio fare la telefonista o la cugina. Dico vabbè, mi richiama dopo 15 giorni, quindi a 15 giorni dall'inizio a casa sua e c'erano tutti gli altri che lui aveva selezionato in tanto tempo. Io conoscevo solo Pazzaglia, che amavo moltissimo, e un po' la Laurito. Vabbè, ognuno aveva il suo monologo perché ovviamente si erano preparati. Io non avevo il personaggio, non sapevo che dire. All'improvviso Renzo mi fa, farai la telefonista. E io immediatamente ho risposto, sì signor Arbore, ma lei è sposata signora? Sì, Corobi, guardi una perla. Non perché è mio marito, ma c'ha dei bambini così, due stelle, eh? Guardi, proprio tu amori, Massimiliano e Cinzietta. E mi ha detto, va bene così. Dico, come? Sì, sì, va bene. Io non ho fatto una prova, nessuno di noi peraltro. Però, mentre gli altri avevano l'argomento, e quindi preparavano i monologhi, giustamente, senza prove, eh, comunque, io mi dovevo inventare chissà che ogni puntata, capito? Leggevo un sacco di giornaletti, perché ormai il personaggio era questa signora innocente, un po' ingenua, tenera, ma anche profondamente saggia, in fondo, che però amava le storie che la facevano sognare, amava gli attori, le attrici, quindi dai a leggere L2000. Sia dei fotoromanzi, diciamo. Sì, proprio una cosa... Quindi è nata così, è nata così. Non ho pensato veramente a nessuno in quel momento.